Buonasera, siamo al balletto, una grande festa della bellezza senza dubbio e la produzione che andiamo a ospitare è davvero bella, avete già avuto modo di intravedere i primi momenti di questa produzione, la bella addormentata di Tchaikovsky che presentiamo con una compagnia che non è mai stata in Italia, è un debutto, una compagnia importante come lo Stats Ballet di Berlino che è la compagnia di danza che balla anche alla Deutsche Oper e con il suo direttore, il coreografo Naccio Duato che nel 2013 ha concepito questo spettacolo, questa coreografia, in realtà era stata pensata a San Pietroburgo per il teatro Mikhailovsky e due anni dopo la ripresa variandola per il teatro di Berlino e per la sua compagnia che dirige appunto da due anni. Ci parlerà di questa interessante figura della coreografia contemporanea, Alfio Agostini che abbiamo la fortuna di avere a Torino, il direttore della principale testata specialistica sul mondo del balletto e della danza che Ballet 2000 è stata trilingue che esce in italiano, inglese e francese e che lui ha fondato e che dirige dal 1980. Quindi una delle persone migliori che potevamo avere per parlare della bella addormentata di Naccio Duato. Prego Alfio Agostini. Grazie a Simone Solinas del Teatro Regio per la presentazione lusinghiera che mi ha fatto. Io ho già avuto il piacere di essere qui con voi per altre occasioni, per altri spettacoli e mi fa particolarmente piacere di essere qui per questa bella addormentata che vedremo da partire dal XVII al Teatro Regio. Quello che avete visto scorrere sullo sfondo è lo spettacolo stesso che vedremo. Quindi non è una versione diversa ma è proprio esattamente lo spettacolo che vedremo perché questa versione della bella addormentata col balletto dell'opera di Stato di Berlino, con la coreografia di Naccio Duato è per l'appunto quella che è stata invitata, la compagnia che è stata invitata al Teatro Regio in questa stagione e che rappresenta proprio esattamente questo balletto. Io vi farò vedere però anche, vedremo alcuni pezzettini, vi farò vedere però anche un'altra bella addormentata, faremo degli assaggi di un paio di punti di un'altra bella addormentata. Adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Inizio il discorso permettendomi una piccola correzione a Simone Solinas che ha detto vedremo la bella addormentata di Tchaikovsky, ne parlavamo proprio con lui un momento fa e dicevo lo dico scherzosamente perché ne parlavamo proprio un momento fa e infatti lui si è espresso come si esprime normalmente, come si dice Aida di Verdi, la Valkyria di Wagner, la Bohem di Puccini, uno dice la bella addormentata di Tchaikovsky e non è veramente giusto, non è veramente giusto e questo è proprio l'inizio della mia, lo dico anch'io, intendiamo, ce lo diciamo tutti, la bella addormentata di Tchaikovsky, ma in verità andrebbe bene ma non posso dire vedremo la bella addormentata di Tchaikovsky, no, sentiremo la bella addormentata di Tchaikovsky, ma vedremo la coreografia in questo caso di Nacio Duato. Voi mi direte si può dire quello stesso dell'opera? No, dell'opera non si può dire lo stesso, dell'opera è chiaro che quel che conta è la musica, che l'elemento essenziale è la musica. L'autore del libretto, non lo sappiamo neanche certe volte, vorrei sapere quanti di noi sanno di chi è il libretto, cioè il soggetto di Bohem piuttosto che dei Masnadieri di Verdi, di chi è il soggetto dei Masnadieri di Verdi? Un'opera che io amo molto ma non lo so, di chi è il libretto della Lucia di Lammermann, non lo so, perché quello che conta nell'opera è la musica, è il canto. Ora, quello che conta nel balletto è evidentemente la danza, la coreografia. Vedo un balletto perché voglio vedere la danza, non perché voglio sentire la musica, se no sarebbe facile, se no chiunque potrebbe comprare un disco di musica alla FNAC e poi farci sopra le sue danze, ma sarebbero le sue per l'appunto. Mi scuserete, vi sembrerà che io dico una banalità, però è veramente un concetto estetico, se mi permettete la parola grossa, qui non siamo nella filosofia estetica, è molto semplice da intendere, ma è di base e tendiamo tutti certe volte a perdere di vista questo elemento, che nel balletto, nella danza, se ci piace la danza, l'oggetto artistico che stiamo guardando, cioè la cosa, il quid, non è la musica, Tchaikovsky, poverino, non lo sa nemmeno, non lo sapeva nemmeno che un giorno qualcuno avrebbe fatto a Berlino o a Pietroburgo un balletto sulla sua musica, quello che quindi noi vediamo è la danza, quindi noi parleremo, vi parlerò oggi, non di Tchaikovsky, altri meglio di me lo potranno fare, ma parleremo del balletto, cioè della danza, di quello che vedremo realmente in scena. Quindi per dire brevemente, La Bella Tormentata è un balletto in tre atti con un prologo, cioè c'è un prologo che è praticamente un atto e tre atti, quindi in verità è in quattro atti, ma si dice in prologo e tre atti, su musica appunto di Tchaikovsky, la prima rappresentazione, la prima veramente, se l'ha provato anche in precedenza, ma il balletto classico a cui ci riferiamo è del 1890, musica appunto di Tchaikovsky, coreografia di Marius Petipas, che è il grande coreografo francese, che all'epoca era direttore della danza al Teatro Imperiale di San Pietroburgo. Veniamo brevemente al soggetto, il soggetto è ispirato a una fiaba di Perrault, che è appunto La Bella Bois Dormant, La Bella addormentata nel bosco. La traduzione giusta sarebbe La Bella nel bosco addormentato, che è più poetico in un certo senso, però in italiano veniva meglio La Bella addormentata nel bosco, quindi la conosciamo tutti così. È una fiaba di Perrault della fine del 1600, 1697 esattamente, che è stata usata molte volte per fare dei balletti, perché è una fiaba molto bella, un soggetto un po' infantile se vogliamo, però un po' più, ha anche dei contenuti un po' più profondi ed è stata usata molte volte, sia nella danza, nel cinema, fino ai cartoni animati. Walt Disney ha fatto un film in cartoni animati molto bello sulla Bella addormentata. Quindi il soggetto, vorrei cominciare, vi dirò naturalmente il soggetto della fiaba, immagino che tutti lo sappiamo, però siccome l'ultima volta che ho fatto una presentazione qui, una gentile signora del pubblico molto amabilmente mi disse, ma veramente lei non ha detto il soggetto? Io vorrei sapere, il soggetto comunque, anche se non è importantissimo, ma vorrei sapere perché in fondo quello che vedo poi è una vicenda che si svolge ed è giustissimo, lo dico senza nessuna ironia, aveva perfettamente ragione e quindi stiamo tranquilli che vi ripeterò il soggetto della fiaba che pure tutti conosciamo. Due brevi parole sul balletto classico in generale. Il balletto classico forse saranno inutili per voi che siete spettatori di teatro, quindi sapete tante cose, ma mi permetterete brevemente. Il balletto, quella forma d'arte che si chiama il balletto classico ha delle origini molto complicate, non andiamo al Rinascimento, non andiamo alle feste coreografiche del Rinascimento, lasciamo stare il 600, ma si è inizialmente un poco codificato, per così dire, la danza classica, quella che noi oggi chiamiamo danza classica, si è codificata alla fine del 600, l'origine è italiana, con la trattatistica italiana del Rinascimento, ma poi effettivamente l'apporto francese è stato molto importante, fino al Grand Siècle e all'epoca di Luigi XIV, quando con l'Accademia Reale di Musica e di Danza si fondò a Parigi l'origine di quella che oggi è l'Opera de Paris, ma che è anche la prima istituzione veramente organizzata sulla danza, dove si insegnava la tecnica della danza accademica e dove c'era una compagnia di professionisti che rappresentavano in teatro spettacoli della danza accademica, quindi diciamo l'origine vera è quella, però quello che noi sappiamo, quello che noi oggi chiamiamo balletto, balletto classico, in verità si forma nell'800, i primi capolavori sono la Silphide, che è di un coreografo danese, franco danese che è August Bournonville, poi Giselle che tutti conosciamo, che è il primo capolavoro del repertorio ballettistico, ma che veramente trova il suo grande compimento in Russia, strano a dirsi, in Russia c'erano le condizioni anche economiche, c'era una grande corte che voleva avere degli spettacoli di qualità, avevano molti soldi naturalmente e quindi tutti gli autori, sia per l'opera sia per il balletto, europei e in particolare italiani per l'opera e francesi per la danza andavano a Pietroburgo. Ora questo francese, questo Marius Betipa, trovò a Pietroburgo nella seconda metà dell'Ottocento le condizioni ideali per sviluppare, non sviluppare, veramente era già stata sviluppata, per portare a compimento questa forma d'arte tanto speciale, tanto strana che è il balletto classico. E in questo genere che è il balletto, che ha un repertorio in fondo abbastanza limitato, possiamo dire che la bella addormentata veramente si realizza compiutamente l'ideale e si definisce lo stile e la forma e i caratteri del cosiddetto balletto classico. Classico è un'espressione anche non veramente giusta, bisognerebbe dire balletto romantico perché l'epoca è romantica, nel caso di Petipa è tardo romantico, addirittura parliamo della fine dell'Ottocento, la bella addormentata del 1890, ma quindi sarebbe balletto tardo romantico su una base tecnica che è classico-accademica. La sintesi russa, la sintesi che si operò in Russia, opera di un coreografo francese, abbiamo detto, delle scuole italiane e francese, si invera qui, si invera per usare un'espressione un po' filosofica, si invera in un'opera che ben al di là del soggetto, che è una fiaba, che offre soltanto una struttura teatrale esteriore, esterne proprio la trama nel senso letterale, la trama è un tracciato che permette di costruirci sopra delle danze, ma attenzione, non è la danza un semplice ornamento di questo tracciato che è la fiaba, è un po' il contrario, quel che conta è la danza, è il balletto e la fiaba offre soltanto una specie di canovaccio per così dire, ecco, offre una struttura, offre una scaletta per così dire di danze che possono essere liriche o più liriche o più di divertimento o più drammatiche, ma sono danze, come nella musica, quel che conta è lo spirito di una certa musica, qui quel che conta è lo spirito di una certa danza. e quindi La Bella Addormentata è un capolavoro, vi assicuro un capolavoro coreografico, di una bellezza e di una inventività e di una musicalità, perché naturalmente la musica conta, soprattutto La Bella Addormentata, apro una parentesi, è uno di quei casi, rari ma che si sono ripetuti in seguito, di collaborazione stretta tra il coreografo e il musicista, ma in cui il musicista, cioè Tchaikovsky, in un certo senso era in una posizione subalterna, non come qualità artistica, perché la partitura di Tchaikovsky è bellissima, è una delle più belle partiture di Tchaikovsky, è eseguito anche in forma di concerto, c'è una suite che grandi direttori eseguono in forma di concerto, perché l'invenzione melodica, l'orchestrazione, sono di una bellezza straordinaria, quindi ha un grande valore musicale, però diciamo che nella formazione del balletto Tchaikovsky aveva una posizione quasi secondaria rispetto al coreografo, che gli fornì il libretto e gli fornì una traccia precisa, ma proprio dandogli indicazioni precisissime, c'è la corrispondenza tra Petipa e Tchaikovsky, dove il coreografo gli dice, ecco qui mi fai, qui ho bisogno di 16 battute in ton de wals, in tempo di walser, perché qui c'è l'entrata delle fate, per dire, quindi ho bisogno di questo, poi qui mi devi fare un pochino più drammatico, perché è l'entrata di Karabos, eccetera, in quest'altro punto invece è una danza, qui c'è un passo a due, che è una struttura formale molto precisa, adagio, variazione di lei, variazione di lui, coda finale, quindi Tchaikovsky inventò la musica a numeri chiusi, perché il balletto è questo, il balletto è come l'opera dell'Ottocento, uno spettacolo a forme chiuse, ci sono i momenti di pura danza, poi finisce la danza, comincia la pantomima che serve per portare avanti l'azione, per far vedere cosa succede, ma la pantomima in sé non è nulla, è pantomima per l'appunto, vediamo i personaggi che si muovono per mostrare che cosa sta succedendo, è un po' come il recitativo nell'opera, dove non ci importa tanto la musica in un recitativo, sono le parole che servono per andare avanti con l'azione e dopodiché c'è l'aria, il concertato, il duetto, così come nella danza c'è l'ensemble, il passo a due, la variazione a solo. Quindi, dicevo, l'inventiva coreografica, che è arrivato a noi, ecco questo è importante, è uno dei balletti, la bella addormentata, che è arrivato a noi nella forma più pura, cioè più simile all'originale, naturalmente la danza non ha la scrittura precisa come la musica, quindi quello che noi vediamo oggi, quando vediamo una bella addormentata classica, non vediamo esattamente quello che avevano creato nel 1890, però la bella addormentata è forse uno dei balletti che proprio come successione, come trasmissione di continuità è uno dei più puri e dei più perfetti che siano arrivati. È un balletto che ha avuto anche una grandissima influenza. Alexandro Benoit, che era un grande pittore, che era il primo scenografo dei balleruss di Diaghilev, diceva, e qui lo cito un attimo, senza la bella addormentata, la storia del balletto in Russia e nel mondo intero avrebbe forse seguito un altro corso. I balleruss forse non sarebbero nati se la bella addormentata non avesse suscitato in noi, quando dice in noi, intende noi di quell'ambiente, cioè quindi della Russia dei primissimi del novecento, se non avesse suscitato in noi un entusiasmo irresistibile, una sorta di delirio. Proprio è un balletto che influenzò moltissimo tutta la storia del balletto. Se mi permettete un'osservazione personale, posso dire che anch'io nel mio piccolo sono stato un po' folgorato dalla bella addormentata, perché la prima volta che mi sono, quando cominciavo ad occuparmi seriamente di balletto, la rivelazione per me fu per l'appunto, furono appunto dei brani della bella addormentata che vidi a Venezia, figuratevi, nel 1975 e interprete era Irina Kolpakova del Kirov di Leningrado, che oggi si chiama di nuovo Marinsky di Pietroburgo, ma nel 1975 si chiamava ancora Kirov di Leningrado. Irina Kolpakova che è stata una delle più grandi interpreti di questo balletto, forse di tutti i tempi. E' stata anche per me una rivelazione, lì ho capito, io amavo la musica, amavo l'opera, eccetera, lì capì che il balletto può essere una grande arte, può essere un'arte e può essere una grande arte. E rimasi veramente molto colpito da questo. Scusate questa digressione personale. Ecco, ora dopo tutto questo bel discorsetto sulla bella addormentata, su Petit Pas, sull'Ottocento, sulla bellezza del balletto, sulla natura del balletto che è coreografica e non musicale per quanto la musica si chiama, adesso arriva la doccia fredda, perché devo dire che quello che vedremo a Reggio, per l'appunto, non è la bella addormentata di cui io vi ho parlato fino adesso. Anche se, attenzione però, apparentemente sì. Cioè il coreografo che è Nacio Duato, Nacio Duato è un coreografo spagnolo, dico in breve, è un coreografo spagnolo di Valencia, veramente, che ha adesso, alla mia età esattamente, quindi 60 e qualcosa, che è stato un danzatore straordinario all'epoca e oggi è direttore, direttore uscente veramente, del Balletto della Deutsche Oper di Berlino, dello Stazzo Oper di Berlino e ha creato, quando era direttore del teatro Mihailovski a San Pietroburgo, ha creato questa bella addormentata. Tra l'altro, se mi permettete, vi dirò un particolare. Ho detto prima che Petipà trovò con gli zar nella Pietroburgo di fine ottocento i suoi protettori, i suoi magnati, che gli dedono la possibilità di creare questi fastosi spettacoli. Ecco, anche oggi, in tutti i tempi, il balletto è un'arte costosa, il balletto classico, anche oggi ci sono degli zar, solo che sono cambiati, perché anche Nacio Duato ha avuto uno zar del nostro tempo. Immaginate voi un miliardario russo, un magnate del commercio di verdure, quindi che è un miliardario che ha il monopolio delle verdure di gran parte della Russia e che ha acquistato il teatro Mali, che si chiamava teatro Mussorgsky, poi teatro Mali e ora si chiama teatro Mihailovski e chiamò Nacio Duato come coreografo principale. Era un secolo, tra l'altro, che un coreografo non russo occupava una carica di coreografo principale in un grande teatro russo, durata poco, perché poi Nacio Duato è passato a questa compagnia tedesca. Nacio Duato ha fatto un'operazione molto singolare, perché naturalmente ci sono coreografi, con un balletto classico ci sono varie possibilità, o rimontare, riprodurre il balletto antico, con degli apporti personali, modificando magari un po' quel libretto, adattandolo un po', aggiustandolo alla nostra estetica attuale, ma conservando realmente quello. C'è un'altra possibilità che è di fare una cosa completamente nuova, cioè prendere magari la musica e magari vagamente anche il soggetto, però cambiare tutto, cambia coreografia, cambiare anche storia, è quello che ha fatto per esempio Matzec con la sua bella addormentata, ma dove immaginate la bella addormentata è una ragazza che non si addormenta ma è drogata, allora fa l'overdose, allora si addormenta per cento anni, allora poi arrivano a svegliarla, il suo ex fidanzato, insomma una cosa del genere. E questa è una possibilità estrema. Nacio Duato ha fatto una cosa stranissima e questo è molto importante, poi vi faccio vedere subito dei pezzetti per capire cosa intendo dire, ha fatto una cosa molto strana, ha preso cioè il balletto tale quale, se voi lo vedete, come lo vedrete le prossime sere o anche adesso direte, beh questa è la bella addormentata, sento la musica di Tchaikovsky, vedo delle ballerine in tutù, quando c'è l'entrata dell'adagio della rosa lei entra e lei balla, insomma vi sembra lo stesso balletto, poi guardate bene, i passi sono tutti diversi, cioè ha preso il balletto originale, che vi ripeto è ancora disponibile nel repertorio russo e l'ha rifatto mantenendo l'aspetto più o meno lo stesso, con qualche aggiustamento, sono costumi un pochino più moderni e anche abbastanza gradevole a vedersi, vedrete, però ha cambiato, non volendo utilizzare il balletto classico, perché avrà pensato, beh quello c'è, esiste, va bene, ha rifatto completamente la coreografia, cioè ha rifatto completamente i passi, ha disegnato, ha composto dei passi diversi, cioè delle danze diverse, la principessa entra, c'è la scena in cui è il compleanno, perché? E la situazione è esattamente la stessa, in quel punto preciso della musica lei entra e fa una variazione, in quel punto preciso arrivano e c'è un passo a due, però i passi sono completamente diversi. Vi dico brevemente, per non essere sgridato, vi dico brevemente la storia, cioè la vicenda, ed è questa, in un 600-700 fantasioso, questa è la fiaba di Perrault, diciamo, un re e una regina festeggiano la nascita della loro bambina che è Aurora. Al battesimo intervengono tutte le fate del paese portando ciascuna degli auguri e dei doni, ma siccome un balletto e siamo in danza, il dono di ciascuna cosa sarà? Sarà una solo di danza, cioè arrivano queste fate e danzano per la principessa. Arriva alla festa non invitata l'unica cattiva fata del paese che si chiama Carabos, che è naturalmente arrabbiatissima per non essere stata invitata, fa uno scandalo, fa una scenata, proprio da diva, sappiamo com'è, e loro cercano di calmarla, ma lei non si lascia calmare e come regalo porta una maledizione. Dice, la bambina crescerà, sarà bella, brava e buona, ma a un certo punto si pungerà un dito e morirà. Boh, non sono mica contenti. Allora arriva la fata dei Lilà, che l'ha fatta buona e dice, eh beh, io non posso proprio annullarlo, però posso attenuarlo. Diciamo che non morirà, ma si addormenterà per cento anni e sarà poi svegliata dal bacio di un principe e tornerà alla vita dopo cento anni. Vabbè, meglio che niente, avrà detto il re e la regina. Però il re nel frattempo cosa fa? Fa da ordine che si tolgano tutti gli aghi, tutte le cose per cucire tutto quello che esiste nel regno che venga proibito assolutamente. Allora, arriva il giorno, 16 anni dopo, e la festa di compleanno, la bambina ha 16 anni, la principessina, ormai è una principessina, deve trovarsi marito, una volta ci sposava presto, deve trovarsi marito, arrivano dei cavalieri per chiederla in moglie e lei danza con questi cavalieri. Qui sospenderei il racconto perché vi farei vedere un pezzettino che appunto l'arrivo di, l'arrivo, dunque l'entrata, siamo nella festa, siamo già nella festa, tutto quello che ho detto è già successo, siamo nella festa di compleanno, arriva la principessina festeggiata per danzare con i cavalieri. Guardate con attenzione per favore i passi, proprio vedere che cosa, come balla e che cosa balla. Ecco, questa come vi dicevo, qui finisce il prologo, la strega lì cattiva pronuncia la maledizione e finisce il prologo. Passiamo ora a vedere un pezzetto, passiamo alla festa di compleanno, quindi sono passati 16 anni, festa di compleanno, siamo ancora a corte, siamo nella stessa ambientazione, entra Aurora. Ecco, qui vi raccomando di vedere, di guardare bene i propri passi, proprio la parte coreografica, la danza di questa entrata di Aurora. Entra la principessina e danza con i quattro pretendenti, con ciascuno di quattro. Avrete già visto qui che la parte danza non è propriamente classica classica, questo si vede molto bene, ci sono dei passi classici, le ballerine sono in punta, hanno una specie di tutù, ma non è veramente la danza classica, la danza classica pura. La danza classica pura ve la faccio vedere dopo. Adesso vediamo quindi l'entrata di Aurora, che la regia sempre nella versione di Nacio Duato, col balletto dell'opera di Berlino, che è la stessa, ripeto, che vedremo qua. E conserviamo un attimo nella nostra memoria quello che abbiamo visto, intanto che la regia mi prepara il disco numero 2, la traccia 6. Ve la faccio vedere ora, vi faccio vedere la stessa scena in una versione, non nella versione, nella bella drumentata classica, tradizionale, la più giusta, la più vera che possiamo immaginare, che è quella del Kirov di Leningrado. Questa è una registrazione del 1965, immaginate. Dovrete, vi dico subito, non lasciatevi incantare dal fatto, non lasciamoci incantare dal fatto che qui ha un aspetto abbastanza moderno, diciamo, in un certo senso, anche la ripresa video, tutto, insomma, ci riconosciamo in questa ripresa. Adesso vedrete una cosa che vi farà forse un po' sorridere, perché sembra un film di Hollywood, sembra un pochino, cioè si sente che è vecchio, si sente che sono 50 anni fa. Ma guardate bene la ballerina, che è meravigliosa, si chiama Alla Sisova, era una delle grandi ballerine del Kirov di Leningrado di questa epoca, di una bellezza straordinaria, tanto per cominciare, ma anche se non sono le forme delle ballerine di oggi, ecco, anche questo dobbiamo toglierci il pregiudizio. Qui vedremo una bellissima ragazza, un po' cicciottella, a dire il vero, con le gambotte che non sono proprio delle ballerine come le conosciamo oggi, ma di una bellezza straordinaria e quello che vediamo è, esattamente, considerando che è passato un secolo e mezzo, esattamente, no, non un secolo e mezzo, saranno passati un secolo, insomma, esattamente quello che possiamo considerare la versione di riferimento, cioè la versione di Petit Pas. Il balletto di Petit Pas del 1890, rimontato poi da quello che era il regista dei Ballerius, il regisseur dei Ballerius, che era Nikolai Sergeyev, nel 1921, è rimasto il repertorio al Kirov. Questa ripresa è vecchia del 65, ma tutt'oggi al Marinsky di San Pietroburgo ballano esattamente questa versione. Mi ho voluto farvi vedere questa. Qui abbiamo esattamente lo stesso pezzettino che abbiamo visto prima. Ricordate l'entrata, che subito dall'entrata, subito è presa da uno dei principi ed è portata in alto. Ci sono parecchi lift, come si chiamano, dei parecchi portés, quindi è portata in alto, tutto è molto più rapido rispetto a quello che vedrete ora, con delle pirouette rapide, anche se qua e là il coreografo fa delle citazioni alla coreografia originale. L'attitude, che è questa posizione della danza classica, una posizione del Mercurio del Giambologna, questa famosa statuetta, con una gamba tesa, col piede a terra in punta, l'altra gamba sollevata dietro e arcuata e le braccia che corrispondono simmetricamente alle stesse pose delle gambe. Questa posizione, che si chiama attitude, è un po' la posizione tipica, è la nota tipica della principessa Aurora, perché in fondo è una posizione trionfale, una posizione cerimoniosa, è un po' il compleanno della principessina della fiaba, ma è il compleanno della danza classica. Nel 1890 si poteva perfettamente festeggiare il compleanno della danza classica accademica e queste attitude, vedrete ora, ripetute, reiterate, con degli equilibri, vogliono proprio dire questo. Vedrete che la situazione è la stessa, ma vedrete che la coreografia è molto diversa. Ovviamente ecco l'Adagio della Rosa, avete visto che rispetto al brano che abbiamo visto prima la coreografia è molto diversa, anche al di là dell'aspetto, dei costumi, di questa ambientazione che a noi può sembrare un po' ingenua, ma questo è veramente la quintessenza del balletto classico. La balleria è molto brava e molto bella tra l'altro. Ritorniamo brevemente alla vicenda, abbiamo capito perché si chiama Adagio della Rosa, perché ognuno dei quattro pretendenti porta in dono una rosa alla principessa. Finito questo, arriva Carabos, travestita, anche lei, questa arriva sempre nelle feste a guastare tutto, arriva travestita e offre un mazzolino alla principessa, ma dentro c'è uno spillone. La principessa si punge, come previsto, e cade addormentata profondamente, arriva la fatela e dice no, non è morta, si sveglierà fra cent'anni. E tutti portano pazienza e aspettano cent'anni. Cioè, per forza, nelle fiabe non si può fare altrimenti. E portano pazienza perché non si accontenta di addormentare la principessa, ma chissà perché addormenta tutti quanti. E se no quando quella si sveglia chi trova conosce più nessuno, c'è anche una logica. Allora addormenta tutti, tutti sembrano contenti di addormentarsi per cent'anni, ma se addormentati restano tutti in una zona del bosco, tutta la corte è addormentata per cent'anni. Infatti in certe versioni, quando poi si risvegliano, cambiano i costumi. Si capisce che sono passati cent'anni, che la moda è cambiata, che non sono più con quei parrucconi così, ma sono già ormai nel tardo settecento ed è cambiato un po'. Quindi accade questo. Nel frattempo, lasciamo passare i cent'anni, e dopo cent'anni un principe, naturalmente sempre un principe, un principe, c'era solo principe in giro per i boschi una volta, un principe va in giro per la caccia, ma è un principe di quelli lì che non sanno che cosa vogliono, come al solito nei balletti, che aspirano a qualcosa ma non sanno cosa, sono innamorati ma non sanno di chi. Allora chi gli appare? Gli appare la fata di Lillà, per forza, perché anche lei è stata lì a aspettare cent'anni. Quindi arriva la fata di Lillà e gli mostra in sogno la sua amata, che è poi la principessina, gli mostra in sogno la principessa Aurora, lui la vede sempre in sogno, naturalmente si innamora, è condotto dalla fata di Lillà fino al punto dove sono tutti addormentati, la trova lì addormentata in un bel letto, la bacia e si sveglia. Quella naturalmente si sveglia come previsto e celebrano festa di nozze e tutti contenti. Vediamo se abbiamo tempo, non so quanto tempo vi ho già rubato, vorrei farvi vedere un attimo nella versione moderna, cioè nella versione di Nacio Duato, col balletto dell'opera di Berlino, vediamo la traccia 24 per favore, solo un momentino vediamo questa scena del secondo atto, quindi nel bosco dove il principe vede, questo tra l'altro è un atto che secondo il balletto classico chiameremo l'atto bianco, cioè è un atto dove succede poco o nulla, sono soltanto danze con di solito un corpo di ballo femminile, delle soliste femminili e di solito un solo uomo, che in questo caso è il principe, che danza o con delle soliste ma soprattutto con la ballerina principale. Qui si conclude, quindi la vicenda praticamente si conclude qui, finisce il secondo atto e nell'ultimo atto è la festa a corte, naturalmente lei si è svegliata, trova tutta pronta la festa già per il matrimonio, chissà come, lo sapevano già, hanno preparato tutta la festa, lei si sveglia, torna lì, abbraccia i genitori, papà e mamma, tutti contenti e festeggiano il matrimonio col principe. In questa festa appaiono, ci sono varie, è quello che si chiama un divertissement, che è nel balletto classico, divertissement non nel senso di divertimento ma nel senso che diverte, si distoglie dalla vicenda e sono danze di piacere, di intrattenimento e sono varie cose, per esempio aveva scelto di fare piccole scenette da altre fiabe di Perrault, allora c'è il gatto con gli stivali, c'è non so chi, insomma ci sono varie, gli uccelli blu, che è un passo a due virtuosistico, molto bello e molto vivace. Immaginate che alla prima prima, nel 1890, era un italiano, era Enrico Cecchetti, nome famoso, che faceva, nella stessa sera, faceva il ruolo dell'uccello blu, che è un ruolo di grande difficoltà tecnica, quindi può fare un giovane e allo stesso tempo faceva anche Carabos, quindi il ruolo della strega, che è un ruolo pantomimico, un ruolo intravestito. Enrico Cecchetti, che tra l'altro se non sbaglio è morto, ha lavorato molto a Torino, è morto a Torino, no è morto a Milano veramente, però stava a Torino e c'era un suo figlio che ha lavorato nella danza a Torino per molti anni in seguito. Parliamo dei primi anni 30, nel 900, negli anni 1930 in poi. Questo Enrico Cecchetti, che è stato il grande maestro della danza classica, dalla fine dell'Ottocento in seguito ha praticamente fondato il balletto classico in Inghilterra, dove tutt'oggi seguono il metodo Cecchetti, insomma è un nome un po' mitico dell'insegnamento della danza classica. Quindi saltiamo tutte queste scenette di divertismo e veniamo al pas de deux, perché naturalmente alla fine in ogni balletto che si rispetti, quando tutti sono felici e contenti, i due protagonisti fanno un bel pas de deux, che è il momento culminante, è come il duetto nell'opera, ecco immaginiamo un grande duetto finale in un'opera. Qui è un lieto fine naturalmente, non è un duo drammatico. Vediamo, e se abbiamo tempo vi farei lo stesso giochetto di vedere le due versioni. Cominciamo con quella moderna e siamo al numero 37, cominciamo con quella moderna e poi se resta il tempo vediamo anche quella classica antica. E rivediamo, se avete pazienza, rivediamo la per me bellissima versione del Kirov di Leningrado del 65 con alla Sisova, dove vediamo la coreografia originale. Ha un'occhiata danza superficiale, si dice, beh più o meno cambiano un po' i costumi, cambia un po' quello, però più o meno è quello, è danza classica. Sì, però è danza classica fatta da due autori diversi, fatta da un autore attuale, che ha come vi dicevo 60 anni oggi e che è quello che abbiamo visto adesso e l'altra è l'originale, sempre eppure con tutte le virgolette del caso, l'originale della bella addormentata di Petipa, ricostruita in seguito e che è qui al Kirov di Leningrado del 65, ripeto, ma insisto su questo punto, ma che è tuttora in corso, in mezzo mondo, quando si fa la bella addormentata classica, si fa questa versione coreografica. Qui noi la vediamo con una grande interpreta del passato. Quindi questo, il passo a due famoso, che tra l'altro nei vari gala di ballito classico è molto spesso rappresentato dalle copie di ballerini, è proprio uno dei passi a due più famosi di tutto il repertorio classico in questa coreografia. E ora intanto che ci salutiamo, perché penso di non dover approfittare oltre della vostra pazienza, intanto che ci salutiamo chiederei alla regia di tornare al primo disco e di mettere il numero 41, che è il finale, tornando alla versione moderna attuale di Nacio Duato, che vedremo qui. Questo è il grande finale, dopo il passo a due e dopo tutte le varie danze di divertissement, come abbiamo detto, si conclude, cerimonia di nozze, grande festa a corte, grande marcia reale, eccetera. Qui noterete che nel finale, proprio nella marcia finale, è una musica che sfido i miei amici, i colleghi musicologi a dirmi che cos'è questa musica. Magari qui lo sanno magari tutti e io faccio brutta figura, però di solito non si sa che cos'è questa musica. Questa musica è molto trionfale che sentiamo ora nel finale e con la quale si conclude il balletto in questa specie di apoteosi in cui i sovrani sono felici, i due sposi sono felicissimi, tutti quanti sono felici e contenti. Questa musica di questo grande corteo è una marcia e immaginate è la marcia reale di Francia, cioè Tchaikovsky riprese la melodia della marcia reale di Francia, proprio per richiamare il fatto che è una fiaba francese della fine del Seicento, la fiaba di Perrault, quindi la fiaba del fine del Seicento, l'ambientazione è un po' la corte di Versailles, si capisce, e quindi ha usato la musica, che ormai non si suonava più da moltissimo tempo, della marcia dei reali di Francia, della marcia della dinastia di Devalois, che era questa. È anche una musica molto bella, tra l'altro. Ecco, quindi io tornerò a salutarvi brevemente, ma vediamo questo finale. Così si conclude il balletto e si conclude anche il nostro incontro.